Signori, musica epica per favore No, non sta cagato, vabbè lasciamo perdere Siamo finalmente arrivati ai 1000 iscritti Signori ovviamente come avrete letto dal titolo vi invito a guardare il video fino alla fine Perché farò 3 speciali diversi su 3 giochi diversi Voi direte ma perché fai 3 speciali diversi? Perché così accontento un po' tutti Ovviamente non si possono accontentare 1000 persone Almeno credo, vabbè ci proverò Però come avrete letto ho intenzione di fare uno speciale su Brawl Stars Uno su Fortnite e uno su Minecraft Che sarà il più complicato da fare E qui entrerete in gioco voi nei commenti Ma in caso poi vi spiegherò ora durante questo breve video Sperando che sia breve Ma il master dell'editing saprà che lo dovrà far durare poco Ah, e ps il master dell'editing sarei io Ma vabbè comunque non vi interessa, signori C'è un video importante come quello dei 1000 iscritti Lo devo fare conciato così Cioè dovrei farmi la barba di mostro 40 anni, signori 40 anni, invece ne ho 20 Vabbè, 21 per la precisione Ma non perdiamoci in chiacchiere Dicevo che per quanto riguarda lo speciale Brawl Stars Avevo in mente di giocare appunto ovviamente con voi E fare due partite con ognuno di voi Ovviamente speriamo che vadano bene Perché voi siete tipo a un miliardo di trofei E io sono tipo a due trofei Ma vabbè, su questo poi ci sarà da argomentare Per quanto riguarda Brawl Stars Avevo intenzione di registrarlo già mercoledì Non so quando starete guardando questo video Oggi è martedì, 14 aprile mi sembra Volevo farlo uscire appunto già martedì 14 aprile Perché sono sicuro che li raggiungeremo entro oggi Quindi se lo state guardando mercoledì Ok, avevo intenzione appunto di registrarlo mercoledì Verso le 3, cioè tipo dalle 3 voi Io mi faccio trovare online su Brawl Stars E iniziamo a giocare Ci starebbe lo stesso anche se vi trovassi in altri momenti Magari potrei registrare, non lo so però Perché magari alcuni non possono alle 3, non lo so Quindi appunto per ricapitolare Due partite con voi su Brawl Stars E poi appunto farò uscire una sorta di montage Di tutte le partite Comunque più ce ne stanno meglio è Non lo so, da vedere O magari metto solo la migliore con ognuno di voi Non so, magari ne faccio due Poi ne carico una, la più bella è da vedere Comunque valuterò in caso in sessione di editing Per quanto riguarda Fortnite Volevo iniziare a registrarlo venerdì 17 aprile Dovrebbe essere il 17 Fatemi controllare in diretta Ci metto due secondi Sì, venerdì 17 aprile Sempre ovviamente dalle 3 di pomeriggio Anche lì spero che ci siate tutti Non lo so Perché non è che faccio una partita singola con tutti Faccio una sorta di mega gruppone Perché mi avete detto di fare i server Se sapete come fare scrivetemelo nei commenti Ora poi vi parlerò anche di cosa scrivere nei commenti E in caso faccio i server Però io sinceramente non li saprei fare E mi sa che non potrei neanche farli Ma comunque scrivetemelo voi Quindi venerdì 17 Ci troviamo tutti su Fortnite alle ore 15 Questo sono le 15 Le 3 di pomeriggio Vabbè ci siamo capiti E appunto non lo so Giochiamo possiamo fare o creativa tutti insieme Perché saremo in tantissimi Quindi ci sta a fare mega creativo Un mega torneo Ci potrebbe stare Oppure ci starebbe anche fare il gioco delle armi Non so se la conoscete come mappa Si gioca mi sembra al massimo in 15 Quindi si possono fare due sessioni da 15 3, 4, 5 Dipende quanti siete Per chi non mi avesse ancora inviato la richiesta di amicizia Oppure magari non l'ho vista e non l'ho accettata Ditemelo nei commenti O comunque in caso nel primo commento Lo metterò in evidenza Vi scrivo sia tutti gli orari Tutti i giorni Delle varie speciali Sia Il mio nome di Fortnite Ok Mentre per Minecraft È quello più difficile Ma quello che vorrei fare più volentieri Potrei fare i server però solo con le persone Appunto che ho tra gli amici Non lo so perché mettere online un mondo Non lo so fare Non so neanche se si può fare E soprattutto dovrei avervi tutti come amici Ok ci può stare Quindi per Minecraft sotto questo video Scrivetemi cosa avete in mente Perché voglio assolutamente farlo E poi lo facciamo Quindi in caso poi ve ne riparlerò in un altro video più avanti So che sto sbagliando molto a parlare Nella mia testa era molto più fluido come discorso Quindi nei commenti dovete scrivermi Allora per prima cosa Cosa e come fare per Minecraft Perché vorrei sinceramente farlo Ma appunto non so come fare Quindi entrate in gioco voi Poi per seconda cosa Magari che modalità fare su Fortnite E credo basta Se ho qualcos'altro da dirvi Ve lo scrivo nel primo commento Credo che questo video lo farà uscire il 14 Come secondo video aggiuntivo Spero appunto che lo guardiate tipo in tanti questo video Così almeno siete in tanti a giocare Qualcuno non si perde Non si toglie Non si mette Vi ringrazio nuovamente per i mille Ma questa frase me la sentirete dire Altre mille milioni di volte E appunto vi do appuntamento domani Ovviamente come sempre alle 2.45 Con un nuovo video E in più Nei vari speciali Sperando che ci possiate essere tutti Ciao E grazie ancora Ciao 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 Ciao